In quel film si ride, si piange, si pensa, si riflette, si ricorda, si ipotizza, cioè è un capolavoro assoluto, quello è il merito di Robert Zemeckis, il regista e l'autore del film, e di Tom Hanks che ha restituito questo personaggio in modo così felice. A me rimane l'orgoglio di aver fatto parte di questa operazione, insomma, di rimanere nella storia del cinema. La soccavata è stato un lavoro lungo, durato un mese, probabilmente avevo trent'anni di meno, avevo meno esperienza, però credo di averla azzeccata, insomma, perché comunque vedendo e rivedendo il film le emozioni che Tom Hanks aveva dato in originale sono state restituite anche in italiano e vuol dire che il trucco è il momento.